Michele e Pamela sono due persone fortunate perché non debbono stare al di là delle transenne ma sono proprio nel vivo dello stand dell'Enel, semplicemente perché hanno risposto a una domanda e hanno vinto un concorso. Sì, è vero, con l'Enel premia siamo riusciti a partecipare al concorso, abbiamo vinto e grazie a loro siamo qua. Sei appassionato di ciclismo, sei felice di essere qui? Sì, sono felicissimo, è un'occasione unica, più unica che rara, venire in questo paese e vedere il Giro d'Italia proprio dal vivo. E poterlo toccare veramente con mano. Tu vivi a Milano ma sei originario di queste parti? Allora, io vivo a Milano però sono originario da generazione di Molfetta e quindi è stato ancora uno stupore ma anche una meraviglia stare qui ancora di più. Sono Pamela, lei è rosa e sono molto contenta di essere qui soprattutto perché poi è il centenario quindi è ancora più bello. Lo slogan di quest'anno è Entra nel Giro, voi ci siete veramente entrati? Sì, è proprio lo slogan giusto, Entra nel Giro e noi siamo nel Giro. Grazie.